ciao amici oggi vi porto a fare un giro con me nel mio attuale posto di lavoro almeno quello che è il mio posto di lavoro da quattro mesi e mezzo circa questo è il bar di prua di una nave cruise europa è un salone che pieno pieno tiene circa 800 persone allora cominciamo dalla regia questo è il controllo di tutto l'impianto luci e di tutto l'impianto audio questo è il palco dove in questo momento c'è la mia attrezzatura pronta per la serata è una bella vista ora questa sera ancora i passeggeri devono salire e ancora non c'è nessuno però quando quando ci sono serate piene quando facciamo carichi di persone fino a 3.000 3.100 persone in questo salone la sera si sviluppa un bel bordello adesso vi porto nella nel dietro le quinte in quello che è il mio camerino ecco qui ok per oggi basta devo lavorare ciao